Buongiorno, sono Viviana Pozzo, mi sono laureata nella magistrale in antropologia culturale ed etnologia e in scienze politiche e sociali. Questa scelta è dovuta alla mia passione ed attenzione negli esseri umani e nelle loro relazioni sociali. Questo mi ha portata a viaggiare molto, ho vinto una borsa di studio per un progetto di tesi all'estero di un anno a Malta e ulteriori progetti in ambito interdisciplinare in Spagna e in Inghilterra. Ho insegnato in ambito interdisciplinare materie umanistiche e antropologiche, corsi di lingua inglese e spagnola e anche in chiave artistico creativa corsi di sport, fitness, danza e pittura attraverso la mia associazione culturale di antropologia visiva Vivi Talent. Una delle mie grandi passioni è la fotografia attraverso cui ho potuto approfondire con il corso della manager di operatore fotografico e Photoshop la fotografia come strumento per poter guardare il mondo e l'essere umano. Mi reputo una persona attiva, aperta, comunicativa e determinata. Amo lavorare in equip ma anche in modo autonomo. La passione che metto nella vita la applico anche nel lavoro e se vi ho incuriosito parliamo nel modo più approfondito.